La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato i fondi per gli eventi calamitosi verificatisi in occasione delle ondate di maltempo che hanno colpito l'Abruzzo nel 2013, a novembre e dicembre, e nel 2015, nei mesi di febbraio e marzo. Il 16 agosto scorso il capo del Dipartimento Protezione Civile ha emanato un'ordinanza recante la disposizione operativa per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di soggetti privati che ammontano a 36 milioni 500 mila euro. La Regione aveva chiesto e ottenuto in entrambi i casi il riconoscimento dello stato di emergenza e il 9 agosto aveva dato la propria intesa allo schema di ordinanza curato dalla Protezione Civile Nazionale. Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha curato la ricognizione dei danni e l'inoltro delle richieste a governo. I comuni interessati per la provincia di Teramo sono in tutto 43.